Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti. 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 Sarà la campionessa paralimpica Paola Protopapa a vestire i pantaloni. della dama della bolla dopo aver partecipato anche a un tratto del cammino del perdono. È stata un'esperienza molto coinvolgente per noi atleti, la fiaccola rappresenta il fuoco olimpico ma in questo caso esprime l'importante messaggio del perdono. Inoltre correre su queste strade che di solito si fanno in auto è bello per chi ci riavvicina al territorio. Lo dice Paola Protopapa che ha vinto l'oro alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 nel 4 con Misti LTA oltre ad aver conquistato numerosi piazzamenti di prestigio nelle rassegne eridate. L'atleta si è distinta anche in altre discipline come la vela e lo scinordico. Da più di dieci anni si è stabilita nell'Aquilano e oggi risiede attorno in parte, comune a pochi chilometri dal capoluogo. Lavora presso la direzione generale di una compagnia di assicurazione. Sarà lei a portare l'astuccio in cui per secoli è stata custodita la bolla del perdono del Santo Papa Celestino V. Ci siamo riusciti dopo anni di progettualità, relazioni, personaggi, viaggi, scambi, dibattiti, confronti di ogni tipo, una straordinaria mostra fotografica realizzata da Luciano D'Angelo, il nostro italiano. Adopt Srebrenica, impegno solidale ma anche progetto politico per una nuova Europa, ponte di ascolto e ripresa di relazioni di convivenza dopo le lacerazioni della guerra balcanica, diventa associazione e progetto in mano a giovani, donne e uomini della città e del genocidio. Lo fanno sapere le associazioni Mila Donne Ambiente, Aicre Abruzzo, Baobab, Donne in Campo, Donne Vestine, Olis, Arci Abruzzo, Scienza Underdiciotto Pescara, Primovere. Un progetto per coltivare un legame diretto tra l'Abruzzo e Srebrenica per commemorare i 23 anni trascorsi dal genocidio che ha avuto come teatro la città bosniaca. Le associazioni italiane, tra cui quelle abruzzesi, con capofila la fondazione Langer di Bolzano, che per questo hanno lavorato, accettano dunque l'invito a partecipare alla settimana internazionale che si terrà proprio a Srebrenica dal 25 al 31 agosto, per la prima volta non da esse organizzata. La ripresa del dialogo è avviata, dicono, e i giovani se ne faranno protagonisti. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo molto nuvoloso fino alle ore centrali, nuvoloso nel primo pomeriggio e molto nuvoloso nel resto della giornata, con temperature da 23 a 30 gradi e venti deboli. Nelle zone interne cielo molto nuvoloso, con temperature da 23 a 29 gradi e venti da deboli e moderati, il mare è previsto quasi calmo. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa metropolitana di Pescara Penne, a voi tutti grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.